Avevo 16 anni quando alla fine di una serata di lavoro al ristorante mi fecero assaggiare sette tipi di chianti diversi. Fu la scoperta di un nuovo mondo. Da allora non ho mai smesso di studiare. Negli anni è cresciuta dentro di me l'ambizione di poter condividere la mia passione per il vino. Non ho la pretesa di insegnare. È la voglia di imparare a guidarmi ogni giorno nel lavoro che faccio. Ancora oggi, quando assaporo qualcosa, mi emoziono come da ragazzo. Dietro ogni bottiglia c'è una storia. Una storia fatta di persone, tradizioni, lavoro. Una storia di poesia e amore. È questo quello che voglio raccontare. Sono Oscar Mazzoleni. Sono un sommelier curioso. Grazie. 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 Grazie.